Brutta esperienza ma con lieto fine per Olga, un'anziana signora retina vittima di una truffa. Lo scorso 27 giugno, secondo quanto si apprende da una nota della polizia, l'85enne, mentre si trovava da sola all'interno della sua abitazione, riceveva una chiamata da un sedicente maresciallo, il quale le comunicava che suo nipote era stato vittima di un grave incidente stradale che aveva assoluta necessità di denaro contante. L'uomo, dall'altro capo del telefono, riferiva che al posto del denaro contante sarebbero andati bene anche oggetti in oro e che lui stesso avrebbe provveduto ad inviare qualcuno per il ritiro. La signora Olga quindi ha provveduto a reperire tutto l'oro che custodiva in casa e poco dopo un uomo effettivamente bussava alla sua porta accolto dalla 85enne che gli consegnava tutti i suoi gioielli, ma non è tutto. Mentre lo sconosciuto si trovava ancora in casa, la donna riceveva una nuova chiamata dal finto maresciallo e mentre questa era distratta, l'uomo all'interno dell'abitazione raggiungeva un'altra stanza dell'appartamento e trafugava 1.400 euro in contanti. Quando gli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo, diretti dal dottor Sergio Leo, giungevano presso l'abitazione dell'anziana signora, la trovavano ancora sotto shock per quanto prima avvenuto. La polizia stradale di Cassino, dopo l'allarme lanciato, ha bloccato e arrestato i due truffatori e restituito gioielli e denaro ad una emozionatissima Olga accolta in questura per la riconsegna.